Se la vostra domanda è Mida, la risposta è assolutamente Museo Internazionale delle Donne Artiste a Ceresole d'Albe a provincia di Cuneo. Questo, signori, è la nascita di un nuovo movimento che inaugurerà così il 21 aprile 2023 e ospiterà al suo interno una selezione di opere, opere importanti tra le più interessanti artiste italiane e anche straniere. Ebbene, l'intento del Mida, questo Museo Internazionale delle Donne Artiste, diretto da Vincenzo Sanfo, curatore di fama internazionale, che sarà sicuramente affiancato da un comitato consultivo, è quello di andare a portare in luce la creatività femminile non sempre valutata nella giusta dimensione. Grazie alla collaborazione delle artiste e di privati collezionisti è stato possibile assemblare un insieme di opere importanti, che spaziano da Berte Moriso a Susanne Valadon, da Sonia De Laune a Marina Abramovic, passando per Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, le cinesi Zhang Gong Mei, Xiaolu, l'indiana Washigara Zon Singh. In mostra, vi saranno dipinti, disegni, sculture, ceramiche, installazioni, video, fotografie, acqueforti e opere grafiche che racconteranno la complessità del mondo creativo femminile. Ospitato all'interno della Chiesa della Madonna dei Prati, il Mida coinvolgerà anche il centro cittadino con installazioni e sculture collocate in luoghi appositamente selezionati, prevedendo la collocazione ogni anno di alcune piastrelle e elementi indicativi riportanti i nomi e la storia di artiste non esposte nello spazio museale, ma le cui storie meritano di essere conosciute mediante un apposito QR code. Il Mida si affianca al già presente Mubet, Museo della Battaglia di Ceresole, presenza già consolidata.